Signori bentornati in un nuovo episodio di Amnesia The Bunker Nell'ultimo episodio siamo arrivati qui che ci troviamo all'interno di un Penso un campo medico militare o forse siamo nel bunker O forse il bunker è comunque sotto questo posto costruito Insomma siamo in un periodo di guerra ambientato nella prima guerra mondiale Ci sono scosse di terremoto che non si sa da dove vengono Abbiamo saputo che in questo posto si aggira una bestia Non so che cazzo è ma c'è E adesso controlliamo da questa direzione Cos'è? Abbiamo vari oggetti non so mai se sono utili o sono cazzate Perché in questo gioco comunque puoi prendere un po' di tutto Io ho tirato la leva a caso Ma qua c'è tipo un detonatore Ah l'uscita che mi diceva e ci voleva l'esplosivo Ma noi non abbiamo l'esplosivo Mannaggia ok quindi di qui E' sicuro che non dobbiamo fare nulla Ok ok Tiriamo sta leva Madonna Ok qua dove cazzo si va All'uscita ti indica di qua Ok quartiere Ok degli ufficiali Il quartiere generale L'alloggio degli ufficiali Ok questi quindi sono tutti gli alloggi degli ufficiali Se non troviamo qualcosa Raga Che cazzo ti suono era? Bottiglia vuota Può essere lanciata Minchia Non mi piace sta roba Questa addirittura potre Ed è il gas Questa esplode Ho trovato una fotografia I squarci nella porta C'è qualcosa di grosso per causare questi squarci Vediamo se questa nota può darci più o meno un indizio Ultima nota di Jobert A chiunque trovi questo messaggio Furnier Il nostro ufficiale in comando E' rannicchiato qui accanto a me Ha perso la ragione in un abisso di terrore Non fa altro che ripetere le stesse parole in un ritornello senza fine Fuggire Fuggire Dobbiamo fuggire Sigillare la bestia nel luogo a quale appartiene Vuole scappare e far saltare l'uscita dietro di sé Per sigillare il demone qui sotto Il demone e anche i nostri uomini Il suo costante ritornello mi sta entrando nella testa E quello stesso vuoto di terrore mi sta contagiando Intrappolate qui sotto con quella bestia L'arsenale potrebbe essere la vostra unica ancora di salvezza E' tutto quello che posso fare Quello che il mio compagno mi permette di fare Raggiungete la sala comunicazione negli alloggi dei soldati Nascondetevi lì Vi trasmetterò questa informazione via radio Hai capito? Praticamente lui è scappato In teoria questo Juber con questo ufficiale Hanno sigillato l'uscita Tanto questo qui era una nota missione Ci ha dato un obiettivo infatti Hanno sigillato l'uscita con tutti i soldati dentro Cioè questo significa che A parte che qua c'è una bestia Un demone addirittura l'hanno chiamato Quindi penso che sia così Ma ci ha anche fatto capire che l'arsenale potrebbe essere una salvezza Quindi mi aspetto di trovare comunque qualcosa di adatto per combattere Ok questo è un altro diario Strani rumori Poco fa ho sentito degli strani rumori Graffi sulle pareti Adesso sembra che qualcuno stia camminando nel corridoio Ed sono gli stessi suoni che sento io cazzo Probabilmente è Reynard che sia obbligato la riserva di vino che ci tiene nascosta Credo sia meglio affrontarlo adesso Lo riporto io a via a dormire Ah è cagare Bene quindi sentivano dei rumori C'è qualcosa che si aggira in questo posto Addirittura qua potrei chiuderlo Ma se io controllo il generatore Mamma mia devo costantemente rifornire il generatore Ok però posso chiudermi le porte Ok Oh no Oh cazzo Il rumore è pericoloso Non farne troppo Mi sono cagato Eh lo so che sono ferito Mannaggia Mamma mia raga Non mi piace sta situazione Guardalo Cioè no guardalo Sentilo Porca puttana ho paura Io non l'ho mai visto Mamma mia che suoni raga Non so se si sentono Qua è saltata proprio Qua è saltata proprio la porta Eh ma sto cosa non fa rumore Mamma mia Tanto non c'era nulla Mamma mia Sento rumori attraverso le pareti Hai subito dei danni Fai attenzioni Stai lasciando dietro di te Un'ascia di sangue Che potrebbe attirare la creatura Ma vai a cagare Devo ritornare indietro raga eh Andiamo ad andare alla casa E curarmi Mamma mia Prendi il kit medico Mamma mia raga Mamma mia Adesso che sappiamo tutte ste robe Stiamo più attenti Mi si è spento il generatore No Ancora no Ancora no Ma ci sono dei rumori di merda Cos'è sta roba Oh carburante Potrà servirsi Ascolta la roba Se io metto il carburante Lo sapevo Bottiglia di carburante È una specie di molotov Ma il carburante Ah però l'ho sprecato Per fare sta roba Ok Non abbiamo più medicina Io direi di andare Da questo lato E Sala comunicazioni Era quella che ci indicava Nella nota Facciamo una roba Per adesso Controlliamoci gli alloggi Che li abbiamo già iniziati E noi siamo entrati di qui Ma di qua cosa c'era? No c'è nulla Anche trovare un paio di colpi Blocco d'emergenza Questo è chiuso Io non ho ancora visto Quella bestia Spero che rimanga così A lungo Qua c'è del sangue Siamo qua per adesso Chiudiamo Ho un armadietto Dimmi che trovo qualcosa di Di utile Dai ma veramente Me li fanno vuoti Dammi qualcosa Eh da lì può uscire Ti prego Una nota In seguito al raid di ieri sera Abbiamo preso in custodia Una ventina di soldati tedeschi Della seconda armata Del corpo di riserva Così facendo Abbiamo superato La capacità massima Delle nostre celle Suggerisco che vengano spediti Ai campi il prima possibile Ok Qua vedi Vorrei tenere in custodia Il prigioniero 7314 Prima di essere catturato Ha strappato l'emblema Dei suoi gradi E dell'uniforme In modo da rimanere anonimo Non ha detto una sola parola Quando l'abbiamo catturato Sospetto si tratti Di un ufficiale O di un'altra figura di rilievo Ah quindi avevano le celle piene Soltanto uno Per questo gesto Se lo sono voluti tenere Aggiornamento sulle gallerie romane Gli ingegneri hanno fatto breccia Nelle gallerie romane Passando per il nostro deposito Sono come ce le immaginavamo Strutturalmente solide Profonde Confesso ero scettico Su quest'ultimo punto Ma in effetti Portano in direzione Della linea tedesca E sono tutte informazioni Diciamo Di guerra Di assalti Prigionieri Un'altra foto Ecco queste penso Siano le gallerie romane Beh ci stiamo esplorando Per bene Però raga Qua avevamo già visto Qua è un labirinto Mamma mia raga Io non so se voi sentite Sti rumori Vi posso solo dire Che è proprio inquietante In cuffia Sento Le mosche Oh del carburante Guarda qui C'è un passaggio Oddio ho fatto Un mare di bordelli Avvicinati sto cosa Oddio Cazzo Mamma Oh cazzo L'hanno maggiullato Che cazzo di gioco è Ora puoi trasportare Più oggetti Ah ho trovato una borsa Bene Ok Questa porta era chiusa Dall'interno Quindi penso Era l'unico passaggio Questo qui Quindi abbiamo fatto bene C'è un'altra nota Che io andrei a leggere Rapporto di Larwe Sto mettendo Per iscritto Nel mio rapporto Benefico Dei miei immediati superiori Ieri sera Il 14 maggio Sono stato assegnato In supporto All'ingegneri Che si stavano occupando Di mappare Le gallerie romane Non appena ho barcato L'aria più interna Delle gallerie Ho notato Uno strano liquido Fosforescente E gocciolare Dalle pareti Mi sono girato E le pareti Sono improvvisamente Sparite Lasciando uno spazio Di una vasta distesa D'oscurità E lontananza Scorgeva una flessibile luce Che sembrava Mi chiamasse a sé Tra me ed essa Si muovevano Delle ombre Deforme Indistinte Ho strizzato Gli occhi incredulo Ritrovandomi così Di nuovo Nelle gallerie E quindi Qualcosa Di allucinogeno Qualcosa che dà Allucinazioni Mi sembra di intuire Guarda qua Che disegni strani Ok quindi questa porta Era bloccata Da sto lato Sì E facendo così L'abbiamo aperta A giudicare dal buco Sto coso Può spaccare tutto Noi da dove Siamo passati Da qui Guarda questo qui Questo era quello Con cui è scappato Quell'altro Quello che era impazzito Nella nota Un'altra nota Sparare alla bestia Oh vediamo se è utile Rapporto della sua situazione Dopo la morte di Tremolo Il bunker è precipitato Nel caos Perfetto Quindi siamo in un bunker Ho ripreso il controllo Della situazione Ho ordinato agli uomini Di dividersi in squadre Per cacciare E uccidere la bestia Di rimando Mi hanno risposto Che è impossibile Che i proiettili Non la uccidono Che servono solo a guadagnare tempo E farla tornare più furiosa di prima Godardi Gli ho rispediti A compiere il loro dovere Cacciare E uccidere la bestia Se falliscono Giuro che dovremo affrontare Un destino peggiore Degli artigli Nell'oscurità Ok Questo raga È un Classico indizio Che il gioco ci dice Che la bestia Comunque Non può essere colpita I miei proiettili Servono solo a guadagnare tempo Nel caso Finiamo Nella merda Ma non la uccido Così Ho un documento Sicurezza dell'arsenale Ordinato un aumento Della sicurezza Dell'arsenale È stato chiuso Con un codice Troverò i responsabili Quindi l'arsenale È chiuso con un codice Noi non abbiamo il codice È bella foto Una mano mozzata Mamma mia raga Tutte queste note Ti fanno Aumentare ancora di più Diciamo L'ansia Sulla situazione Ah questa era quella Chiusa dall'altro lato Potevo aprirmela Reynard È di Reynard Avevamo trovato Delle note Mi pare Vabbè non mi ricordo Ma le avevamo trovate Ok questo è un bicolo cieco Quindi questa qui è chiusa Non so da dove si possa passare Per andare su quell'altra stanza Ma io non posso passare Sui buchi dove lui passa Perfetto Questo è un bene Non ci tenevo onestamente Bene a questo punto Possiamo soltanto Andare di qui Ufficio Sala medica Mensa degli ufficiali Ma qua ritorniamo alla mensa Madonna Sono cagato Guarda lì Ho aperto Dall'altro lato Perfetto Siamo ritornati qui Ok Siamo di nuovo sulla mensa Dove abbiamo Dove si è stato freddato Quell'altro Ok È buono Che ci apriamo il passaggio Allora Noi abbiamo ancora Del carburante Io direi Di andarlo a mettere Che abbiamo un po' di carburante Ma qua c'è una nota Fuoco e carburante Mai accendere Alcun tipo di fiamma Sparare con le armi da fuoco Nei pressi del carburante Per la moddercello Evitate Vabbè Grazie al cazzo Ok Il genatore è ancora acceso Qua non c'è niente di utile Martelli Roba Però abbiamo rifornito Il generatore Un po' di più Qua perché si era spenta Accendi la luce Accendi la luce Ok Progressi salvati Allora Io poserei la molotov Perché non ho intenzione Per adesso di usarla E anche il coso Per tenere occhio Il carburante Mi sembra un po' Una minchiata Dai E qua Non c'è corrente In quest'area Dobbiamo dirigerci Verso la sala Comunicazioni Ho una granata Questa può sicuramente Fare comodo Qui c'è del gas Ricordiamocelo Se siamo nella merda Deposito da missione Qua ci vuole Piano Piano Ok E qua C'è tipo un generatore Non posso interagire Con niente però Ok però siamo dentro Ok era chiuso Dall'altro lato Oh Merda Merda Mamma mia il panico Che ti crea Io ste porte Le aprirei Sempre meglio Tenersi Che già siamo lenti Questo ho trovato È una granata incendiaria Granata gas Ok Servono dei kit medici Che non ne ho Cartuccia per il fucile A pompa È una cartuccia Normale Ok Io direi di ricaricare Intanto quella normale Mamma mia Abbiamo soltanto Due colpi Aiuto Cosa c'è a terra È una nota Diario di Clement Raggiungete la sala Comunicazione Negli alloggi Dei soldati Nascondetevi lì E quindi Noi dobbiamo raggiungere Questa sala Comunicazione Per questo motivo E qua ci vuole L'armadiet Ma Non abbiamo I codici Di questa roba Guardate quanta roba C'è qua Negli armadietti Qua c'è una piastrina Magari c'è un altro codice Non ci credo 1890 Ed è di Bardin Comunque abbiamo Una carica Mi sa che è lui Bardin Comunque Bardin Sei esploso male Non ti vedo la testa Bardin 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 Qua c'è una foto Inquietanti ste foto Bardin Eccolo qua Eh mi sono dimenticato Il codice 1890 Perfetto Ok Delle band E un proiettile Oh cazzo Mamma mia Ci sono queste scosse Di terremoto Che non so se sono Dei bombardamenti O di un terremoto Dove siamo in un bunker Comunque il tutto È molto inquietante Però abbiamo trovato Cose interessanti Qua Oh guarda cosa c'è Qua nascosto Un altro kit medico Minchia ma le cose Sono proprio nascoste Da dio eh Sarebbe bello Posarle adesso Qua sappiamo che Man mano che troviamo i codici Nelle piastrine Dei soldati Possiamo sicuramente Avere accesso A tutto questo Ben di dio Ok io direi di uscire da qui Cercare di raggiungere La sala Manutenzione C'è la sala Comunicazioni Scusate Questo è sempre Il blocco d'emergenza Quindi l'unica cosa che è È questa valvola Blocco d'emergenza Ah quindi facendo così Alzo le Merda Si è scassato tutto Progressi salvati Ok accendendo questa luce Salvo praticamente Mamma mia Se è un bene Ok io poserei qua La granata A gas Un kit medico Ma una granata Nella situazione di merda Me la porterei anche Qui c'era il blocco D'emergenza Eh quello è l'arsenale Guarda dove Ma per fare il blocco D'emergenza Lì si è rotta La valvola Era comparso un suggerimento Ma mi si è Si è schippato da solo Ma comunque penso Di dover trovare Un'altra valvola Occhio Vero anche Che però In questa stanza Abbiamo trovato Quella foto Con tipo I minatori Che toglie Guarda qui Nascosto I minatori Che toglievano Eh una grata Quindi magari si entra Da qualche parte Qui su quelle Su quelle grate Magari c'è un passaggio A meno che Si riferivano a questo No qua non c'è più niente Dobbiamo Riandare In posti poco allegri Da questo lato Questo era l'ufficio Di quello Questa se sapevo Non l'aprivo così Che stavo esplodendo male Prima Sparare Ah qua potevo Sbloccarmi il passaggio Velocemente Per andare Da quell'altro lato Questa è chiusa Però è Eh no È chiusa dall'altro lato Quindi c'è qua Per forza Un modo Per andare Dall'altro lato Bisogna soltanto Cercarlo Vediamo se c'è magari Qualche passaggio qua E di qui Se proseguiamo Allora qua c'era il passaggio Che collegava Qua al decesso Poi noi siamo saliti Ma Oddio Mamma mia raga Mi sono cagato Madonna mia Mi sono cagato Avrò Non era una roba Che doveva succedere Semplicemente avrò colpito Il Il coso Qualche filo Con una trappola Aspetta che qua Però Mi ero dimenticato una roba Che la riprendo Perfetto Questa è l'unica cosa Che non si era salvato Va bene Sappiamo dove andare Almeno C'era infatti una zona Dove non siamo stati Ed era dritto Per di qui A destra E qui avrò Preso un filo Esatto Questo filo C'è modo di disinnescarlo Non c'è Che posso fare O lo Assalto Oh cazzo Ho fatto un mare di bordello Sono dietro i barili Sono cagato addosso C'è qualcosa che mi si muove intorno E non so cosa Mamma mia che ansia Però che bella L'atmosfera che ti dà sto gioco Raga Proprio bella Ok Dovrei essere al sicuro La cosa bella E che finora Non abbiamo ancora incontrato Quel mostro Dov'è il nostro vino Questa è una richiesta Di trasferimento di vino Perché la scorta Era vuota Quindi siamo Mamma mia se lo sento A sto punto è dietro le pareti Lui E qua c'è una cazzo di catena Ci vorrebbe tipo Qualcosa per fare leva Dato che abbiamo trovato Una foto del genere Vedete Questi fanno leva Per aprire sta roba Quindi magari Ci vuole qualcosa Che faccia leva Oh cazzo Cazzo raga Oddio Ho visto qualcosa Ho visto degli artigli Porca madonna Mamma mia C'è un'altra piastrina Magari ha il codice Corsi No è senza codice Quindi non è una piastrina Dell'armadietto Avevo visto qua Questo è il blocco d'emergenza Siamo dall'altra parte Io avevo visto da lì L'artigli Ma mi sa che devo andare lì Oddio c'è del fumo Mamma mia L'ansia Mamma mia Guarda questo qui Che brutta fine Che ha fatto Raga Proprio ormai Pelle e ossa Mi dà ansia Sta cosa che devo Ogni tanto Illumino Qualcosa di buio Eppure mi tenta Sparare un colpo E vedere Ah ma mi sa che la apro Poi man mano No ci vuole qualcosa Per fare leva Voglio che me ne vado Raga Non rompiamo di coglione Ci vuole qualcosa Per fare leva Ma cosa posso usare Per fare leva Tipo qualsiasi pezzo di legno Ma non penso Mamma mia raga Ma io lo sento Corre Io ritornerei In attimo Nella nostra Save room Ok Salva Mamma mia Allora aspettiamo Con calma Possiamo la granata Perché per adesso Non ci serve Eh no no Un kit medico Ce lo portiamo sempre dietro Che se ci ferisce È un casino Mi riporterei L'orologio E controllerei A che punto È il carburante Cazzo Siamo senza carburante L'ansia È alle stelle Su questo gioco Madonna Non abbiamo ancora visto Il mostro Però io direi Di salutarci Per questo episodio Qui E nel prossimo episodio Vediamo di Andare avanti Su questa situazione Quindi Io vi saluto E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Amnesia The Bunker Ciao belle mie Ciao belle mie